salve cari amici tuttubi sono francesco bentornati nella soffitto di camera mia o benvenuti se la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo dell'anteprima 341 in particolare della sezione disney ma prima vi chiedo un consiglio visto che o sì sto cominciando a seguire marvel ho intenzione di acquistare qualcosina di marvel ho visto che ci sono due volumi che mi interessano particolarmente uno che in teoria è già uscito ed è spiderman vita di spiderman la mia vita di chib starsky mi intrigava per il concept per cui spiderman invecchiasse nel tempo e non lo so sembrava intrigante se mi dite che potrebbe valerne la pena ci faccio un pensiero l'altro è presente all'interno dell'ultima anteprima che ho anche qui in cartaceo fondamentalmente sono molto contento di averla in cartaceo ma alla mia destra vedete come al solito quando parlerò di disney vi mostrerò alla mia sinistra direttamente le immagini della versione digitale il volume che avevo adocchiato era questo la storia dell'universo marvel di mark wade e javier rodriguez volumone da 230 pagine prezzo di 27 euro un pochettino non mi sconfiffera però l'idea di avere un volume che mi racconti tutta la storia della marvel se è qualcosa alla legacy della dc mi intriga assai quindi consigli che vi chiedo sono questi come ho anticipato nel video della di panini della dc quindi nel caso in cui non avete visto andatelo a rivedere di quest'anteprima prenderò della marvel sicuramente il thor che sto portando a compimento in spillati e lo spider man di spencer perché sono curioso di leggere effettivamente una sua serie regolare per qualche tempo vediamo se poi primo numero mi sembra carino ma non mi dice niente smetto subito però sono curioso e ci darò un'occhiata più che volentieri detto questo passiamo a parlare dell'anteprima di topolino potrei cominciare con l'articolo di enrico sutera all'editoriale iniziale ma che non dice nulla se non anticipare cose che vedremo di lì a breve quindi saltiamolo la prima pagina con i topolini ci anticipa che sul numero 3355 3356 ci saranno due gadget o forse un gadget componibile non si sa parte 1 parte 2 sono due parti di un gadget però non ci viene detto che cos'è quindi anche volendolo acquistare perché posso perché posso già ordinarlo acquisterei senza sapere assolutamente nulla complimenti si fanno proprio così le promozioni io continuo a non sopportare questa cosa di mi dici che esce qualcosa ma non mi dici che cos'è grazie al piffero dimmelo fammi vedere le copertine variant fammi vedere i gadget che mi darai così che se mi interessano se mi interessano davvero e il fumetteria me lo ordini che mi interessa e non capisco perché si debba fare così fatica a fare questa cosa c'è poi l'iniziativa di paper dollari di cui vi ho parlato nell'ultimo topolino diciamo all'inizio di quel topolino in testa a quel video l'iniziativa mi intriga non così tanto da acquistare tutti i volumi ma ho sottoscritto l'abbonamento dopo aver dopo averlo sottoscritto ho letto che molti hanno ricevuto una mail da parte del servizio abbonamenti per dirgli che hey abbiamo ricevuto molto più richieste del previsto non sappiamo se riusciremo ad accontentarvi a me non hanno inviato niente quindi speriamo bene passiamo invece ai contenuti davvero cicciosi di questa anteprima a partire da un volume cartonato di 128 pagine al prezzo di 14 euro e 90 quindi i prezzi si sono allineati a quelli marvel sotto sotto zitti zitti senza dirci niente topolino cover collection 2019 un volume che ci mostrerà per l'appunto tutte le copertine di tutti i topolini del 2019 sono 52 copertine e sinceramente non saprei quante variante facciamo una decina ok per ogni copertina ci sarà una pagina di bozzette descrizioni apparentemente non lo so bisogna essere appassionati di questo tipo di cose io non lo sono abbastanza da voler acquistare questa tipologia di prodotto per chi può piacere potrebbe essere carino io ho acquistato il volume con le copertine di marco rota perché effettivamente non avevo non ho devo averone come testata marco rota da un buon disegnatore un validissimo disegnatore aveva ripreso e ridisegnato il reimmaginato alcune delle storie di barks di don rosa ma anche di altri autori e mi faceva piacere vederlo però effettivamente col senno di poi non è stata proprio l'acquisto migliore che ho fatto a lucca molto bello nulla da dire ben fatto ma non è una tipologia di prodotto che mi convince quindi emiterò quello di marco rota perché comunque è piacevole ma non acquisterò questo delle cover del topolino 2019 perché ce li ho tutti qui dietro e niente non sono fan di questo tipo di prodotti viene poi segnalata una nuova collana disney graphic novel con per l'appunto la rilaborazione a fumetti dei classici di animazione disney i primi due numeri che sono già catalogo per quanto mai annunciati sono dedicati a frozen frozen 2 quindi ovviamente si c'è si punta dal classicone che ha fatto la fortuna della disney in questi ultimi anni e poi mulan in virtù anche del fatto che c'è il film in live action che dirvi di questa tipologia di prodotti il formato è grande perché un 17 per 26 quindi dovrebbe essere largo quanto una definitiva ma più alto quindi un bel volume le storie all'interno sono né più né meno che i classici di animazione quindi se li conoscete se li amate sapete cosa già che storia ci troverete al suo interno sono ridisegnati non sono anno non sono movie comic quindi non sono frame con i balun sono proprio ridisegnati quindi pensati proprio per essere quindi ci potrebbero essere tagli in quella ovviamente non ci sono le canzoni però è un prodotto che può essere carino vi deve tanto piacere quel film d'animazione 48 pagine per 4 euro e 50 insomma non sono proprio proprio economicissimi però se vi piace avete buttato via 4 euro e 50 che ho buttato via intendo non sprecato però insomma si potrebbe prendere qualcosa di più interessante però se siete davvero fan può valere la pena darci un'occhiata proseguiamo con disney legendary collection che prosegue la sua corsa dopo aver terminato con x mickey numero 12 riprende con trullo di tamburi i mercoledì pippo magari magari avesse ripreso con i mercoledì pippo mi avrebbe fatto fare meno fatica però riprende con wizard of mickey ora avesse ripreso con i mercoledì pippo nessuno avrebbe detto nulla molti fan sarebbero contentissimi la scelta di partire con wizard of mickey io sinceramente non la capisco questo perché la legendary collection aveva contenuto per l'appunto tutte le storie di wizard of mickey dalle origini in volumi da 128 150 pagine secondo gli archi narrativi fino a mondi montagne in una collezione di 10 volumi di cui il decimo volume non è mai stato venduto singolarmente ma era possibile acquistarlo solo con l'apposito cofanetto ora sull'anteprima non è segnalato che questo è il numero 11 purtuttavia è il numero 11 prosegue l'arco narrativo iniziato con mondo in montagne di matteo veneros per i disegni di marini per quanto ecco vorrei rileggerle tutte per vedere se effettivamente c'è perché mi ricordo che ci sono dei rimandi in quella però non li ho mai letti con troppa voglia quindi rileggerli magari me ne fa anche rivalutare queste storie ci credo poco ma ci posso credere purtuttavia mi viene già una critica perché ristampare da aurora e non ristampare monti montagne che capisco che io che ho acquistato il cofanetto mi ci trovo già il volume con mondi montagne però posso capire che era uno speciale per me che avevo acquistato il cofanetto mentre invece qui per chi è completista e non ha il cofanetto si trova con una storia monca che senso ha inoltre per me che sono magari un lettore completista spassionato da preso il cofanetto mi ci ritrovo due volumi di questa collana senza cofanetto e che è nel cofanetto non c'entrano questi due volumi non c'è proprio verso già ci sta una fatica i dieci figuriamoci di infilarci nelle altre due perché dico due perché effettivamente questo volume viene pubblicizzato per avere due storie che sono aurora e magicraft non ricordo il titolo di delle altre due mi sembra che siano arena e ricordo c'è sicuramente arena che dovrebbe essere la quarta la terza non me la ricordo assolutamente purtuttavia conterà quindi queste due storie quindi mancherebbe un altro volume per le altre due c'è però da segnalare un paio di cose che mi fanno un pochettino storcere il naso sulla cura che hanno i redattori di anteprima mentre ridigono anteprima ed è la cosa che mi fa cascare le braccia per non dir di peggio ora io ho fatto una ricerca su index ci ho messo 20 secondi a fare questa ricerca su index in particolare per una delle cose che ho ricercato mi è venuto un dubbio quindi ho ripreso i miei topolini vecchi ho fatto il conto delle pagine singolo e ho detto ok allora questa cosa di index che è un database fan made non è un database ufficiale c'è questa cosa qui non era ben chiara l'ho capita stava così qual era questa cosa che aurora dura e lunga effettivamente 50 o 52 pagine però facciamo 50 pagine magicraft è segnata su index con una puntata da 26 pagine e poi tre puntate da non mi ricordo era vabbè 76 qualcosa del genere e mi è sorto un attimino il 82 credo che fosse 82 comunque mi è sorto no 70 72 78 non ho più parli di quante pagine rassegnato su index perché non l'ho riguardato prima di fare questo video fondamentalmente quello che volevo voglia dire è qui è segnato che il volume a 132 pagine perché secondo il calcolo che viene fuori aurora e lunga 50 pagine magica sera sulle 70 80 quindi 130 in realtà magica è lunga 100 pagine più di 100 pagine quindi il volume dovrebbe avere almeno 160 pagine almeno 160 poco male verrebbe da dire hanno sbagliato a segnare il la foglia azione sì ma il prezzo 9 euro 90 per 150 pagine per 160 pagine brossolato di quelle dimensioni inoltre vado a memoria ma non era 17 per 24 perché dice 7 per 23.9 non mi torno alla dimensione ma potrei sbagliarmi io e ok ci sta 9 euro e 90 era il prezzo della di xmiki che ce l'ho lassù l'ultimo volume di xmiki costava 9 euro 90 quindi quel prezzo è giusto per 272 pagine perché wizard of mickey mi costa il doppio fondamentalmente no c'è qualcosa che non mi quadra quindi è sbagliato il prezzo è sbagliata la foliazione in realtà vogliono fare un volume unico da 9 euro 90 da circa 300 pagine con tutte le storie di wizard of mickey ma hanno sbagliato a segnalare qualcosa poi ci hanno ripensato ma non hanno ritoccato il prezzo qual è il problema qui dove l'errore qui perché un errore probabilmente c'è forse spero mi auguro incrociamo le dita anche più di uno personalmente acquisterò questo wizard of mickey perché mi voglio fare del male sono completista marini come disegnatore mi fa impazzire per quanto le storie non siano nulla di che e anzi le storie di venere se le trovate tutte molto molto noiose è un franchise che non lo so sono bambino dentro quando lo vedo quindi lo voglio è un giocattolo che voglio proprio come un bambino ma lo voglio col giocattolo il problema è che da adulto so che mi fa schifo però lo voglio e quindi lo prenderò spero che sia sbagliato il prezzo mi auguro che riprendendo la saga di wizard of mickey e quindi in due volumi riescono a inserire tutte le storie ma anche le brevi che finora sono mancate ce ne sono se non sbaglio quattro brevi dedicate proprio alla primissima alle origini scritte da panini e poi c'è wizard of gamba che sono cinque storie sempre scritte da panini che insomma sarebbe bellino a sto punto già che ripreso tutto quanto wizard of mickey inserisci di tutte le storie quindi incrociamo le dita e speriamo che ci sia tutto 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 visto che già lo stanno riprendendo anche se non credo che ci fossero così tanti fan che volessero wizard of mickey e altri avrebbero preferito il proseguo di i mercoledì di pippo l'altra cosa che mi da un pochettino fastidio e che questa ripresa di wizard of mickey mi fa pensare ma non è che vogliono fare un totale di tre volumi inserendoci anche le new misadventure di venerus e di bacinelli perché vi dico questo perché viene giustamente pubblicizzato il secondo numero del topolino fuori serie dedicato a wizard of mickey che sarà il conclusivo oltretutto il conclusivo della gestione chiamiamola così di venerus perché non è una gestione pensata come gli americani però è un po quello si concluderà tutta la gestione di venerus che abbandonerà e lascerà il modo di wizard of mickey e la mossa mi sa tanto di pubblichiamola prima in questo formato di lusso per poi ristamparla in formato economico all'interno della leggenda ricollection e la cosa mi scoccerebbe parecchio perché il formato della topolino fuori serie non c'entra niente ci sono un po di oltretutto non riesco a mettercelo di fianco agli altri volumi di wizard of mickey quindi prenderò quindi questo volume 2 di 2 sì a questo punto perché voglio a questo punto l'ho già letto la prima parte voglio leggere come finisce però vediamo probabilmente faranno una cosa omologa di sempre leggendari magari sì magari no staremo a vedere però la mossa ecco avessero fatto l'avessero fatta il prossimo anno ne avrei comunque parlato sotto questo tic qui ma magari avrei detto tra me e me sì ma ci hanno pensato dopo quindi tutto sommato la posso accettare adesso come adesso mi sa di ei facciamo tutte le storie nella leggendari perché sì e la cosa mi piace un pochettino di meno passando ai prodotti delle pagine successivi abbiamo il nuovo numero di disney d'autore dedicato a casti saranno una coppia di volumi di tutte storie dedicate al mondo di topolino fondamentalmente perché casti ha fatto quasi solo topolino non vorrei che ci inserisse anche le sue due storie con i paperi in uno dei due volumi giusto per smentire il fatto che fa solamente topi non so assolutamente cosa aspettarmi da questi volumi perché non è segnata nessuna storia che sarà inserita sappiamo che saranno due volumi con cofanetto che col primo numero sarà possibile ordinare il cofanetto e la mossa mi dispiace ma è brutta perché fondamentalmente io non so che storie ci siano come faccio a preordinarti il cofanetto in più non so cosa c'è in questo volume non so neanche cosa c'è in quello dopo se magari vi interessa il primo ma non il secondo perché dovrei preordinarti il cofanetto cosa faccio acquisto il primo poi aspetto che scattute due non vale la pena forse fare il cofanetto in allegato col secondo numero e non fare o fare insomma decidetevi o fate il cofanettone con tutti e due una volta uscito il secondo allo stesso prezzo totale ho fatto il secondo col cofanetto a 20 euro personalmente casta mi piace tantissimo quindi non posso non consigliarvelo io incrocio le dita e spero che ci sia la marea dei secoli che è la mia storia di casti preferita e quindi mi auguro che ci sia però non è detto e vista la foliazione dei volumi mi sembra poco probabile però magari c'è la bionda minaccia già vi farebbe molto contento perché uma di casti a me piace da impazzire e quindi spero che ci sia la bionda minaccia ma ancora di più la marea dei secoli il volume successivo che viene proposto è dactyls 1 9 euro e 90 uscirà a marzo non sappiamo niente di questo volume quindi nulla vi dico se non che non lo comprerò le poche storie apparse sul topolino non mi sono piaciute non mi hanno detto molto non è che non mi sono piaciute non mi hanno entusiasmato non sto seguendo la serie sto aspettando che arrivi disney plus per seguirla quindi non ci sono così legato quindi non acquisterò questi fumetti perché davvero mi interessa poco e nulla passiamo invece a qualcosa di più succoso che mi interessa mi intriga lo acquisterò ed è universo pk informato topolino anzi disney limited deluxe edition quindi formato quello gigantesco ma non quello enormissimo gigante con la cover poster informato quello dei cartonati grandi come per intenderci potere potenza enco viene proposto universo pk per chi non sa di che cosa sto parlando nel 2014 tito faraci vitale mangiatori e paolo de lorenzi hanno collaborato a questa mini serie che era di fatto un what if un come paperinic classico potrebbe reagire alle vicende che succedono sono successe in pk quindi l'invasione degli evroniani xadum il rilazziatore eccetera 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 la prima mini serie ce l'ho tutta nei cinque numeri di paperinic upgrade storia carina non è la storia epocale di pk ma come what if io l'ho apprezzato particolarmente decisamente più riuscito di della terza serie di pk quel pk pk altresì noto come frittole che sì qualcosina di bello uscito però sono più le storie dimenticabili che quelle che vale la pena ricordare questo universo pk tutto sommato e gradevole e disegnato molto bene e sinceramente se fanno questo volume io mi aspetto facciano anche le altre due mini serie di sisti in un secondo momento certo che tiratina d'orecchie perché la gente richiedeva già da molto tempo pk tube e time crime ora pk tube è molto corto poteva uscire un volumetto come oddio mi sfugge il nome topolino nel fiume del tempo una cinquantina di pagine poteva essere comunque accettabile il fatto che non siano pubblicate non è un male di per sé però a questo punto avrei completato l'iter le storie del topolino nel formato limite deluxe piuttosto che andare a ripescare queste nello specifico inoltre qui viene da un attimino da dirvi che il prezzo è di 15 anzi 16 euro per 108 pagine che più o meno credo sia lo stesso rapporto di droidi ed è un rapporto che mi fa se già prima acquistavo questa collana solo per le storie che mi interessavano davvero ancora di più visto che il rapporto è sprofondato sempre di più a favore del prezzo ragionerò ancora di più man mano che usciranno questi albi se la storia mi interessa davvero meno universo pk per me può valere la pena e l'acquisterò non fate caso l'immagine presentata all'interno dell'anteprima perché quella lì è un'immagine generica di anzi credo che sia la versione ricolorata di evroniani che non ho nella sua versione ricolorata però è evroniani non è universo pk quindi non fate caso a quei disegni che non cederanno niente la grande mancante la grande serie mancante di questo anteprima che probabilmente è stato inserito questo universo pk come sostituto e pk un nuovo eroe volume 2 non sappiamo come si dovrebbe intitolare probabilmente non è pk un nuovo eroe però per intenderci il proseguo dell'arco narrativo di gagnore lavoratori ora gagnora già visto che in tantissimi fan anch'io gli ho scritto in privato ha già risposto pubblicamente che la storia è in fase di disegno a lucca però già si parlava visto il grande successo economico di accelerare la produzione di pk che il prossimo numero sarebbe uscito per il cartoon mix il fatto che non si è annunciato per marzo ma si è annunciato questo universo pk mi fa pensare ad un ripensamento ripensamento che può essere dovuto a tantissimi fattori io la cosa che mi viene in mente principalmente è una e una sola a pensare si dice che a pensare male si fa peccato però di solito ci si azzecca qual è questo mio pensiero fondamentalmente che ci siano state così talmente tante critiche che hanno fermato un attimino il tutto hanno cercato di rilaborare in modo tale da venire incontro anche ai gusti dei lettori il che da un lato non mi fa fatto piacere perché vuol dire porre dei limiti da parte della direzione sugli autori dall'altro lato però capisco il non voler fallire a tutti i costi su un'iniziativa sul quale probabilmente ci tenevano visto che pk insomma ha un certo fandom e il suo fandom fa parecchio rumore quindi secondo me si è creato questo meccanismo del genere io in fase di recensione di un nuovo eroe ve l'ho detto è molto poco quello che mi è piaciuto di quel volume ci sono troppe tantissime criticità tante cose che non mi sono piaciute tante cose che non trovo coerenti col personaggio di pk quindi se gagnor però c'era anche qualcosina di buono qualcosina di buono lavoro evidenziato certi passaggi interessanti certe idee buone però sviluppate non in maniera ottimale se gagnor ha preso quelle idee vuole quel che c'era di buono e l'ha reso il punto forte dell'albo magari può venirne fuori qualcosa di buono e potrebbe salvarsi in extremis in questo prima coppia di volumi per poi magari proseguire in maniera decisamente migliore o comunque più interessanti anche per noi lettori vediamo che cosa ci vorrà raccontare e come soprattutto lo vorrà raccontare detto questo per insomma pk e topolino fuori serie direi che possiamo aver finito tranne che esce pk2 giant con la fine della storia e onde alfa onde alfa sinceramente è un titolo che non mi ricordo che storia che storia fosse però la fine della storia bellissima mi piace tantissimo tirare il dakar prima apparizione la sua seconda apparizione nell'universo canonico di pk è in droidi ed è un personaggio molto figo vi consiglio quindi di recuperare la sua prima apparizione se non l'avete ancora fatto tramite per esempio pk al mito o altre ristampe in giro e niente poi esceva per i nick insomma le testate regolari e tenderei a saltarle perché non c'è molto da dire prosegue poi la definitive collection con ben due volumi il primo dedicato alle storie della baia ora sono contento che proseguono e così concludono le storie della baia sono contento che sia il volume dopo double duck si e no cioè da un certo punto di vista si perché si conclude siamo tutti contenti tutti amici come prima si conclude una serie che mi era piaciuta quindi vediamo come anzi dovrei anche l'ho già lette queste storie non sono storie così vecchie però ho poca memoria di queste storie nello specifico per quanto abbia davvero apprezzato i primi due volumi dall'altro lato però la rotazione della testata era un po il suo punto di forza e il fatto che sia uscito prima un volume di double duck quel punto aveva detto fanno tutti i volumi sul double duck poi siamo passati le storie della baia double duck chiusa aperta penso che vogliono proseguire però abbiano prima voluto chiudere una serie in maniera definitiva e quindi le storie della baia anche qui farei delle considerazioni sulla folliazione sul prezzo questo perché il prezzo è 8 ore 50 quindi dovremmo aspettarci rispetto al volume della leggenda recollection un volumetto da 100 pagine e invece ci troviamo un volume da 200 pagine quindi come vengono scelti i prezzi è un terno all'otto tiriamo i dadi vediamo come va e l'altra cosa che viene da considerare è che il volume 3 delle storie della baia in questo stesso formato costava 7 ore 90 per 230 pagine quindi 30 pagine in più 30 pagine in meno non è questa gran differenza però effettivamente questo volume qui è più corto e costa di più perché così di punto in bianco insomma la cosa passa sotto banco apparentemente però insomma fa abbastanza parlare quindi è un errore non è un errore l'ordine in fumetteria cosa mi arriva che prezzo mi arriva insomma è quella cura che secondo me su anteprima dovrebbe esserci perché in realtà potrebbero aver aumentato lievemente il prezzo anche se non l'hanno detto a nessuno l'hanno aumentato e quindi 200 pagine 8 ore 50 potrebbe essere giusto di sicuro non è giusto il volume nella pagina dopo che è il numero successivo di questa collana con papirini che il segreto di fantomius e altre storie e altre storie perché cosa conterrà questo volume le quattro storie prequel di marco gervasio sul personaggio di fantomius storie apparse negli anni 2000 a dire adesso non ricordo gli anni esatti e le storie esatte sono storie in cui si accennava qualcosa del personaggio di fantomius si creava un po il suo sottobosco il suo sottomondo e poi una volta introdotto in questa maniera gervasio ha poi cominciato effettivamente la serie per come la conosciamo viene segnalato come definitivi collection special però nulla vi fa pensare che sia special il formato è quello le dimensioni sono quelle il prezzo di 128 pagine in linea con gli altri volumi di fantomius il prezzo di copertina è 8 ore 50 e com'è possibile c'è c'è un spero sia un errore di anteprima e che non vogliono effettivamente lucrare in questa maniera abbastanza evidente senza dire nulla anche perché è special perché è un volume di fantomius ma non è dedicato a fantomius è special quindi può costare molto inoltre non è segnato che è un volume da sola fumetteria e fosse stato un volume da fumetteria mi sarei potuto anche aspettare un prezzo maggiore ma non è segnato quindi è un volume anche in edicola quindi dovrebbe avere un prezzo un pochettino in linea con la sua fogliazione e questo non lo è quindi chi vivrà vedrà e questo mi rendo un po scontento fondamentalmente però sono contento che ci siano queste uscite nelle ultime due pagine di anteprima sono presenti tutto un pochettino di serie più o meno regolari abbiamo noi amici ovvero sia disney hero che questa collana che parla dei principali eroi disney ok di solito è disney hero era sul singolo e poi c'era disney team che parlava per l'appunto di gruppi di personaggi e fa ridere pensare che disney hero che dovrebbe essere il personaggio sia noi amici noi amici che non è un team dovrebbe essere il singolo personaggio però sarà un numero dedicato a topolino e pippo staremo a vedere è proprio presente paper fantasy di cui vi racconto un piccolo aneddoto perché nel numero antecedente di anteprima era segnato paper fantasy 94 detto vabbè a questo è praticamente un errore era uscito il 13 il 12 13 che è un errore qui è segnato 95 quindi ho fatto una ricerca ho detto com'è possibile e ho scoperto ho scoperto che fino a qualche tempo fa esisteva una testata ombrello chiamata tutto disney tutto disney era arrivata all'ottantesimo numero quando all'interno di questo contenitore è stato inserito paper fantasy e quindi dopo è stato paper fantasy 1 tutto disney numero 90 80 faccio un esempio perché non ricordo ecco numeri esatti paper fantasy 2 numero 81 e così via con il numero precedente hanno cambiato il nome di tutto disney facendo diventare paper fantasy però tenendo la numerazione che aveva raggiunto tutto disney e quindi paper fantasy 95 sarebbe tutto disney 95 che però ha cambiato nome ok a parte questo aneddoto ci troviamo e q galaxy motivo per non comprare quest'albo davvero cioè è proprio il motivo per cui non comprare quest'albo q galaxy ed è l'unica cosa che vuol dire perfetto io non lo volevo acquistare non l'acquisterò non mi piace proprio come serie non ha senso è molto molto infantile non è fantasy è fantascientifica ed è più supereroistica che fantascientifica non c'è proprio niente però ok senza nulla togliere che magari ad alcuni di voi può piacere perché magari l'avete letta era una storia molto spenserata e vi piacciono un certo tipo di storia quindi non vi giudico però non è motivo di vanto il fatto di esserci q galaxy sono poi presenti grandi classici di paperone disney big e paperino su quali o nulla da dire anche perché però per operone paperino mi pubblicizzi l'inedita quindi non saprei proprio che cosa aspettarmi disney big la storia di rimetta penso di averla letta ma non la ricordo e per grandi classici disney resta la probabilmente la migliore testata disney non la sto seguendo perché ho troppe storie disney in giro per casa e come collana mi intriga di meno però è molto molto valida quindi raggi davvero un occhio di quest'anteprima acquisterò sicuramente il topolino fuori serie dedicato a wizard of mickey la leggenda di wizard of mickey le due definitive collection e universo pk e molto probabilmente i due volumi su casti il volume di casti col confinetto per un totale già di 70 euro fondamentalmente non male come marzo per fortuna tutto questo popò di roba è perché c'è una fiera e quindi portano roba se non è un po come il mese scorso non c'è veramente niente il che tutto sommato fa piacere al mio portafoglio avere un mese un pochettino più di calma detto questo questo è quello che voglio dire per oggi questo è uno spazio commenti aspetto vostre opinioni in merito cosa comprerete di quest'anteprima siete d'accordo con me non siete d'accordo a cosa siete interessati discutiamo di questo tono spazio commento qui da francesco il fanco poco alle mie spalle dalla soffitta di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao